Questo progetto costituisce un esempio e modello concreto per l'Europa e per tutta la comunità internazionale. In questa congiuntura internazionale veramente difficile che anche Alexander citava prima, il modello alto tesino di dialogo e di convivenza pacifica è quanto mai rilevante, specie pensando all'aggressione russa in Ucraina e ai possibili assetti futuri. Ogni possibile via d'uscita diplomatica dalla crisi Ucraina passa infatti anche per una soluzione efficace del problema delle minoranze nel futuro assetto di pace. Il modello alto tesino ha suscitato una crescente attenzione internazionale perché si propone come un esempio virtuoso di dialogo e di soluzione consensuale delle controversie e un modello di riferimento in termini di protezione e convivenza pacifica delle minoranze nell'ambito di uno sviluppo armonioso e sostenibile. Un successo come questo non viene da solo e non è mai scontato. L'impegno deve essere costante per evitare una pietrificazione dell'autonomia, altrimenti corre il rischio di erodere. L'autonomia deve restare flessibile, efficace e deve essere adeguata. Dobbiamo farci carico di questa responsabilità. italiana non politica. Das ist auch eine gesamtgesellschaftliche verantwortung. Spesso sentiamo che la nostra autonomia, che era poi il frutto anche di tutto il dialogo e ha trovato questa pietra emiliare con la chiusura dell'avvertenza, è vista come un esempio in tutto il mondo come si possono superare i conflitti, come si possono risolvere i conflitti e garantire da un lato ovviamente la preservazione della cultura e della lingua di una minoranza o delle minoranze nel nostro caso, ma contestualmente anche dare uno strumento di sviluppo positivo a un territorio per tutti i gruppi linguistici conviventi in questo territorio e oggi questo si riferisce anche a nuovi cittadini ovviamente.